Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Si segnala neve in A1 tra Rioveggio e Aglio e sui passi appenninici delle statali. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola rallentamenti tra il passo del Muraglione e Portico di Romagna sempre per neve. Si segnala anche nevischio in A1 sulla variante di Valico. Prestare particolare attenzione al vento forte in A12 tra Pisa Centro e Rosignano e Infi Pili lungo tutto il percorso. In A1 perdita accidentale di 1 pneumatico tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma. In A11 si segnala la presenza di pedoni sulla strada tra l'allacciamento con l'A1 e Prato Est in direzione Pisa. Muoversi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!